Oggi è un punto di arrivo da un lato perché abbiamo chiuso una serie di questioni che si erano aperte nel 2009 complicate, un percorso veramente complicato. Abbiamo chiuso con lo step new yorkese ma adesso qui appunto un percorso che era iniziato nel 2009 ma siamo pronti per partire e dare il via ad un percorso più ambizioso che porterà sicuramente Salemi al centro del panorama culturale con il coinvolgimento di giovani, con il coinvolgimento del mondo del cinema ma soprattutto di quello emergente. Questo è un po' l'obiettivo che ci siamo dati e lavoreremo nei prossimi mesi proprio in questa direzione. Quindi oggi abbiamo avuto molta attenzione da parte della stampa anche dei media nazionali. Cercheremo comunque di incrementare adesso sulle attività perché poi saranno quelle che contano ma la cosa fondamentale è che ci sono dei contenuti importanti perché spesso la comunicazione viene fatta a prescindere dai contenuti. Allora noi abbiamo lavorato a costruire invece una proposta robusta e da questa poi sicuramente daremo il massimo della diffusione. E poi chiaramente l'orgoglio da primo cittadino di avere da oggi un nuovo appunto cittadino prestigioso e un amico come Kim. Sono molto contento che mi viene questa sera conferita la cittadinanza di essere qui. Sono molto contento che mi viene questa sera conferita la cittadinanza di oggi. qui dal comune di Salemi sono stato ovviamente ben accolto da tutta la città di Lanza e sono veramente veramente felice davvero felice di essere qui con voi questa sera. Salemi è una storia molto speciale per me. La mia relazione ha iniziato dal 2008. ha già già 14 anni. Salemi è ora cercano di ottenere la città lentamente e molto piccola per la città globale. C'è qualcosa che mi piace molto culturale. e magari vorrei aggiungere qualche ol'amico da le mie esperienze personali della cultura americana e della cultura americana di Salemi. La mia esperienza qui a Salemi è iniziata 14 anni fa. È ovviamente un percorso che abbiamo iniziato assieme. È un percorso che a me piace portare avanti perché io tengo a cuore la città di Salemi. Ovviamente vorrei aggiungere un pizzico di sapore orientale. Cioè quella che è la mia esperienza qui nella città di Salemi. Con la cittadinanza onoraria che stiamo per consegnare noi chiudiamo un percorso che si è aperto nel 2009 e ne apriamo uno che ci porterà e ci proietterà in un futuro molto florido. Siamo convinti per i progetti che porteremo avanti insieme. Ovviamente ne approfitto per ringraziare Mr. Kim per la sua ospitalità quando siamo stati a New York. Spero che potremo essere all'altezza anche noi di questo affetto che abbiamo sentito proprio nella nostra permanenza e per il quale chiaramente rinnovo il mio ringraziamento. Il comune di Salemi conferisce la cittadinanza onoraria al signor Kim Jongman quale segno di riconoscenza e stima per il legame con la comunità salemitana nell'ambito del comune impegno svolto alla promozione della città di Salemi attraverso la valorizzazione del catalogo filmico da lui donato all'ente. Grazie molto, sono molto onorato. Grazie davvero, sono onoratissimo. e questo è la cittadinanza che insieme al Presidente a nome del Consiglio Comunale, io a nome dell'Aggiunta ti conferiamo. Benvenuto a Salemi Da Salemitano però Grazie, grazie davvero. Grazie, grazie davvero. Mi considero come dei fratelli e delle sorelle da questo momento. È un momento molto importante per me, diventare un cittadino, diventare cittadino onori della città di Salemi è davvero importante, è un momento veramente importante per me. Sì, sono molto orgoglioso di essere un cittadino di Salemi, questo mi rende più veloce da ora. Ovviamente questo mi rende orgoglioso e sicuramente mi porterà qui anche in futuro più volte, ritornerò sicuramente a Salemi. Sì, il vostro generosità dal comune al comune alvenuto, soprattutto alla gente in Salemi c'è alcune relazioni speciali che iniziano da me questo è molto piccolo ma spero questo diventa una grande relazioni che iniziano a questo punto vorrei ringraziare tutti da sindaco a tutta la giunta per avermi conferito la città in un zero orario ovviamente abbiamo iniziato con qualcosa di davvero piccolo e spero che questo piccolo granello possa trasformarsi in qualcosa di grande in futuro grazie davvero ancora una volta ok benvenuti